Ben trovati in diretta, ben trovati a Verso il Campidoglio, lo speciale elettorale di Roma 1 per le elezioni amministrative di Roma Capitale, 26 e 27 maggio. Oggi abbiamo un altro candidato sindaco a Roma, dei 18 che si presentano ufficialmente, saluto e ringrazio per questa presenza, Luca Romagnoli, leader dei Destra Sociale, Fiamma Tricolore. Ben trovato, buongiorno. Allora, sono tanti candidati sindaco, tanti candidati presidenti di municipio, tra l'altro stasera alle 21 parleremo con i candidati, avremo un altro dibattito, con i candidati del nono municipio, ex 12, ma con Luca Romagnoli andiamo subito sui programmi per Roma. La domanda, se lei fosse sindaco, insomma, che cosa farebbe? Da dove partire? Gli argomenti sono tanti, però ho visto nel suo programma che puntate molto anche sulla sicurezza, cercando di stare sull'attualità. Insomma, ci sono due episodi inquietanti, quantomeno, uno ad Ostia, uno all'Eur, non volendo, credo, prendere poi episodi di cronaca necessariamente come esempio dell'insicurezza, però che cosa proponete voi per una Roma più sicura? Diciamo il problema, quando ragioniamo in termini di spazi urbani importanti come quello romano, nessuno deve sfuggire anche il pericolo di fare facile demagogia, sia sulla sicurezza che su quant'altro. Senz'altro dobbiamo migliorare quello che è possibile migliorare, ovvero sia il controllo dei quartieri, soprattutto periferici, soprattutto in certe ore del giorno. C'era stata l'iniziativa del poliziotto di quartiere, che era poi un'iniziativa non tanto comunale quanto di interesse del Ministero dell'Interno, ma così come è stata realizzata poco ha funzionato. Noi crediamo che il Comune intanto potrebbe farsi artefice di una sorta di convenzione con il Ministero dell'Interno e anche con il Ministero della Difesa per quello riguardo dei Carabinieri per cercare di impiegare personale, pagando ovviamente gli straordinari, per il controllo del territorio al di là del normale servizio. Perché non ci sei riusciti però fino ad oggi, secondo lei? Non so se ci hanno mai provato, so che la città ha grossi problemi finanziari, so che reperire risorse non è facile, però mi sembra che quando vogliono reperirle, per alcune questioni le reperiscono, per questa della sicurezza poco effettivamente è stato fatto. Io credo che anzi con la difficoltà che hanno tante famiglie dei nostri uomini delle forze dell'ordine, visto che i loro stipendi sono quello che sono, credo che verrebbe accolto con favore la possibilità di fare alcune ore di straordinario dedicate in particolare al territorio. Poi bisogna tagliare su alcuni costi, per esempio proprio cercando di non incidere anche con l'amministrazione comunale su quello che sono i costi di scorta e quant'altro. Beh, in qualche modo forse il Ministero dell'Interno trova delle risorse da ridistribuire sul territorio in termini di funzionalità dei mezzi stessi di controllo, in termini dei mezzi tecnici, perché devo dire che le macchine dei nostri poliziotti, dei nostri carabinieri brillano per modernità ed efficienza. E anche su altri mezzi alternativi, per esempio aumentare il numero degli agenti che si muovono su due ruote. Insomma, credo che si possa fare molto di più. Ecco, però voi dite anche un'altra cosa, leggendo appunto lei propone tolleranza zero, ma lei dice anche rispetto ai cittadini, cioè multare chi sbaglia, chi sanzionare il commercio abusivo ad esempio, colpirlo duramente. Esatto. Che significa? Beh, dunque, intanto io trovo assurdo che un commercio regolare che è vessato in termini di autorizzazioni, in termini di fiscalità, in termini di ogni sorta di controllo, non trovi neanche il contrasto di un commercio abusivo, diffusissimo, tolleratissimo, con totale evasione fiscale, con frode spesso, perché quello che viene venduto è di dubbia, provenienze di dubbia le città e a questo non pensa mai nessuno. Roma è la città dove sono abusivi dai pittori di strada, che sono addirittura falsi in tante occasioni e vengono protetti i falsi, mentre quelli veri vengono allontanati. E partiamo dall'abusivismo più emblematico, quello fatto appunto dalla vendia di stampe spacciate per quadri per arrivare ad abusivismi molto più vasti. È noto a tutti che i nostri supermercati, i nostri semafori sono spesso pieni di venditori di piccole merci e su queste piccole merci la leicità è assolutamente assente e non vigila nessuno. Vorrei capire per quale motivo la Polizia Municipale è così pronta ad elevare le multe al cittadino che si ferma un attimo in doppia fila, ma poco pronta e a vigilare sulla sicurezza, fra l'altro un problema anche di sicurezza, dei semafori. E poi francamente si compie come al solito un'operazione matrigna nei confronti di chi è italiano e di chi è contribuente. Il commerciante regolare è soggetto a tutta una serie di controlli, a tutta una serie di giusti controlli, peraltro tutta una serie di regole, il commerciante abusivo francamente no e non si dica che Roma non è una città dove l'abusivismo da questo punto di vista è diffusissimo. Fra l'altro si alimentano anche illeciti e vergognosi traffici di esseri umani che vengono presi come dai caporali per l'agricoltura portati la mattina davanti ai supermercati, ne ho un esempio io vicino a casa mia dove ci sono degli estracomunitari che la mattina vengono portati col pulmino alle sei davanti al supermercato a vendere in mercanzia di provenienza dubbio. Le faccio a Romagnoli due esempi, perché insomma proporre tolleranza zero, magari molti saranno d'accordo e contenti, poi però bisogna tradurre questo nei fatti, ci troviamo sempre di fronte invece a fatti anche ingestibili. Penso a due cose, la prostituzione se non si fa, insomma il sindaco ha sempre detto ci vuole una legge nazionale, altrimenti noi abbiamo le armi spuntate, vediamo diffuso ormai il fenomeno un po' dappertutto e l'altro esempio è i rovistatori nei cassonetti che ormai vediamo in tutta Roma, no? È un programma di destra, però poi che fa? In Roma lo scritto è come Calcutta, Roma è ormai come Calcutta. Però poi che fa concretamente? Beh dunque, intanto per quello che riguarda la prostituzione, la prostituzione in Italia è un reato o non è un reato? La legge Merlin nota, chiude appunto le case chiuse e crea diciamo una situazione in fondo di illegalità diffusa come non c'è in nessuna parte d'Europa. Spesso le forze dell'ordine fermano queste donne e non solo, che praticano il mercimonio, però poi dopo il fermo di polizia, l'identificazione che ovviamente è reiterata, molto oltre non possono andare. Quindi certo ci vuole una legge nazionale che dica chiaramente se la prostituzione è un reato non deve essere tollerata e quindi di conseguenza non può essere lasciata al pubblico come avviene nella nostra città. C'è anche un problema francamente imbarazzante per i nostri bimbi quando li portiamo a scuola su certe strade, inutile fare qui esempi, insomma vedere donne... Sono tutte cose collegate a tante disperazioni e povertà che c'è in città, per questo l'ho fatto non è che con la tolleranza... Come lo vieti questo? Come fa a impedirlo, no? Beh, intanto dovremmo impedire che chi non abbia una fissa dimora e un reddito certo rimanga nell'ambito del territorio comunale. Roma è una città dove l'abusivismo anche residenziale è diffusissimo. Quanti di noi hanno visto sotto tutti i ponti di Roma dormire persone che non hanno fissa dimora, sotto i cavalcavia, ce ne sono tantissimi negli interstizi urbani di persone che risiedono e risiedono male. Fra l'altro è anche intollerabile questo a mio giudizio è anche un problema di morale, non è solo un problema di ordine pubblico. Da un lato c'è la tolleranza nei confronti di chi vive, non si sa bene come, spesso purtroppo anche delinque e dall'altro c'è l'incapacità dell'amministrazione di trovare una soluzione o di immaginare una soluzione. Lo stesso vale per i campi nomadi. Io qualche giorno fa sono andato a una festa di bimbi all'incrocio tra il raccordo anulare e via Nomentana e ho scoperto, ho trovato che c'era un altro piccolo insediamento. Questo non è possibile. Se si è nomadi si sta in una località per un certo periodo, dopodiché appunto si nomada, si cambia, altrimenti si diventa cittadini residenti. Se ne hanno i vantaggi e se ne hanno però anche gli obblighi. Non si sa perché a Roma questo discorso sui nomadi non si riesce a fare. Li vogliamo rendere residenti? Bene, sistemiamo delle aree adatte, ma non è tollerabile vedere intorno alla città, dentro la città, ai margini della città insediamenti continui, spesso abusivi ma in gran parte tollerati, di gente che vive in maniera francamente socialmente non accettabile, al di là del fatto legale. Andiamo su un altro argomento perché il tempo corre. Servizio trasporto pubblico, voi siete molto critici nel programma anche su quanto è stato fatto anche in questi ultimi cinque anni e arrivate poi a parlare anche del piano parcheggi, credo sia interessante. No, diciamo, più che quanto è stato fatto, io mi chiederei cosa ha fatto l'amministrazione uscente e non solo sul trasporto. Se lo chiedete ai romani, credo che trovare qualcuno che vi dicono che questa amministrazione ha fatto questo, sarà un'impresa non da poco. Il trasporto, i mezzi sono in stato spesso pietoso. Non parliamo della pulizia e della manutenzione dei mezzi, così come non dobbiamo parlare della pulizia e della manutenzione di nulla che riguarda il pubblico, l'amministrazione pubblica in questa città, perché spesso è in stato di abbandono, spesso non si investe nella pulizia di nulla, nella manutenzione di nulla e questo ha dei costi, perché ovviamente si preferisce ripristinare o meglio sostituire il vecchio con il nuovo piuttosto che manutenzione. La stessa cosa avviene per i mezzi sia dell'Atac che per i mezzi dell'Ama, che francamente sono spesso in condizioni di evidente pessia manutenzione, che dire dei gassonetti e che dire quindi di tutto quello che invece l'amministrazione comunale dovrebbe gestire come un bene acquisito per il pubblico e per il pubblico dovrebbe durare ed essere ben tenuto. Sono le linee dei mezzi pubblici, francamente sono anche discutibili da un punto di vista del servizio a fronte del rapporto degli utenti che possono trasportare nell'unità oraria e a fronte dei collegamenti che in alcuni casi sono francamente incomprensibili, soprattutto quelli tra le zone più periferiche, le zone suburbane e le principali stazioni nella metropolitana, quindi andrebbe rivisto. Piano parcheggi a Roma, inutile che ne parliamo perché tutti sanno che non c'è, non lo ha fatto Rutelli, non lo ha fatto Veltroni, lo ha continuato a fare l'attuale amministrazione consentendo solo speculazione privata e consentendo la realizzazione di parcheggi interrati in alcune piazze con lavori che sono durati anni, rovinando il commercio e intossicando la salute dei cittadini per fare che? Per realizzare boxe poi da rivendere. Se lei va a Salamanca, in Spagna o in altre piccole e in altre anche medie città della provincia spagnola, lei arriva con la macchina in centro e scompare sottoterra in parcheggi che sono custoditi, a pagamento ovviamente, ma che le consentono accesso all'intera città. Questa amministrazione è riuscita a realizzare una specie di enorme vasca da bagno a piazza San Silvestro non pensando neanche di realizzare un parcheggio interrato per le due ruote che per fortuna salvano la nostra città dall'impossibilità di movimento soprattutto nel centro. Però anche a questo l'amministrazione non ha pensato mai. Un inciso, una cosa che mi fa piacere aver letto, insomma sulla cartellonistica abusiva, voi puntate nel programma, non è da tutti una battaglia che facciamo con le associazioni da tanto, che vuol dire riduzioni del 90% di quella regolare e abolizione totale di quella che poi alla fine è anche abbastanza tollerata, che è quella abusiva. È anche un fatto questo di sicurezza perché trovarsi cartelloni all'improvviso in punti sbagliati della strada può, come spesso anche è accaduto, provocare la distrazione del guidatore e oltre che la sicurezza è un fatto di impatto ambientale deleterio. Questo è un discorso che vorremmo poi allargare a tutta l'Italia, che è uno delle nazioni d'Europa più, da un punto di vista della pubblicità invasiva, forse più tollerante. Con anche rovina del nostro paesaggio, oltre che i fatti di sicurezza che dicevamo prima. Credo che il Comune ai levi le tariffe, se vuole, ma riduca l'impatto sulla città che è ormai intollerabile. La domanda la definisco, la domanda delle domande, chi arriverà a fare il sindaco, se sarà lo stesso Remanno, chi per lui, insomma, si troverà o ritroverà lo stesso buco di bilancio pazzesco tra i 9 e i 11 miliardi. Da dove si parte lì? Che cosa si fa? Dunque, intanto credo che si possono pagare tasse quando si ha la possibilità di avere delle entrate. Questo riguarda sia il terziario della nostra città, che purtroppo la gran parte della popolazione attiva è fatta di terziario, che vede i suoi stipendi purtroppo fermi da tanto tempo e quindi con una riduzione della possibilità di spesa e anche con una riduzione della sua possibilità di pagamento delle imposte. Ma questo riguarda anche il commercio e tutte quante quelle attività che potrebbero portare ricchezza e potrebbero portare lavoro se gli fosse data la possibilità di produrre e di non essere strozzati da una burocrazia assillante e ovviamente anche da una fiscalità locale che assolutamente non è fra l'altro parametrata al servizio che ci dà. Un esempio la Tarso. Noi paghiamo una delle più alte tariffe per lo smaltimento dei rifiuti dell'intera nazione, eppure abbiamo uno dei peggiori servizi in proposito. E questo riguarda anche i commercianti che pagano delle cifre assai esose per questo. Credo che invece incominciare a ridurre il buco di bilancio significa intanto fare dei risparmi, azzerare ogni consulenza esterna. Il Comune ha in organico praticamente tutte le figure professionali possibili, deve usare quelle figure professionali, non deve dare consulenza all'esterno che servono a creare grossa spesa e se consentite anche grossa intollerabile clientela. E quello già è un risparmio. E poi ottimizzare il livello dei servizi, estendere l'orario museale significa dare la possibilità a più gente di lavorare, ma significa anche incamerare maggiori entrate. Rivedere le tariffe dei mezzi pubblici. Il cittadino romano deve avere un certo tipo di tariffa, e il cittadino romano non è, deve averne un'altra. Rivedere per esempio il discorso sulla tassa di soggiorno, che a mio giudizio una città come Roma è giusto abbia una tassa di soggiorno da chi cittadino romano non è. Non è che deve guadagnare solo l'albergatore e il ristoratore dalla visita del turista. È giusto che questa massa di gente che comunque grava sui servizi tutti della città contribuisca in piccola parte del suo soggiorno alle casse comunali. Quindi insomma, discorso ampio, ma se ne possono inventare centomila di soluzioni per in qualche modo cercare di risparmiare e cercare anche nuove entrate. Io credo che il turismo, un certo tipo di turismo, quale altra città al mondo se non Roma è maestra in questo, possa essere ottimizzato, possa creare ulteriore lavoro e possa dare ulteriore anche gettito alle casse comunali. Per questo occorrono investimenti e per questo occorre anche rivedere l'amministrazione della nostra città in modo da ottimizzare anche le capacità che si hanno in organico nell'ambito del comune e alle quali spesso non si pensa. E poi si facciano concorsi e si assuma gente perché ce n'è la possibilità. Assumere oggi, indebitarsi per questo, significa produrre però ricchezza e produrre una prospettiva di crescita economica nel breve termine, neanche nel medio termine. Abbiamo pochissimi secondi. Volevo chiederle se siete presenti nei municipi, anche per la sfida nei municipi che seguiamo da vicino e poi lasciarle fare un appello ai nostri telespettatori. Sì, siamo presenti solo in quattro municipi perché non abbiamo inteso rovesciare come spesso si fa candidati non locali su altri municipi solo allo scopo di coprirli tutti, di esserci. Ci abbiamo puntato su quelle che ci sembravano più, dove i nostri simpatizzanti, i nostri candidati sono più radicati, sul quarto, sul quattordicesimo, sul settimo, non ricordo l'altro. E pensiamo insomma di aver messo anche lì appunto dei programmi che sono molto centrati su quei municipi. La nostra intenzione è quella di favorire il decentramento vero ai municipi o i municipi funzionano come funzionano i municipi londinesi o altrimenti questi municipi romani sono una scopiazzatura non funzionale di un comune che già non funziona. Perché votare Fiamma Tricolore? Votare intanto perché siamo gente per bene, perché il nostro programma, che avrà modo di vederselo sul sito www.fiammatricolore.com, crediamo che sia molto aderente alla realtà, molto pragmatica, molto aperto al confronto e anche per carità all'integrazione con le tante idee che vengono dalla cosiddetta società civile, a cui tutti fanno appello ma che nessuno mai ascolta. Io credo invece di averla sempre ascoltata perché sono un'espressione di questa società, non ho mai fatto politica per professione ma solo per passione e questo spero che possa essere anche apprezzato. E l'ultima davvero, in caso di ballottaggio dialogherete con qualcuno? La politica è dialogo, sarebbe il massimo se io dicessi di no. Dialogheremo con quella che ci sembrerà, qualora non sia la mia, la proposta più interessante, più utile ad affrontare i gravi problemi di questa nostra città, dietro i quali si fa spesso tanta demagogia e poco senso di responsabilità, noi dialogheremo soprattutto con chi ci dimostrerà qualche idea concreta, poche, è inutile dire io risolverò tutto, nessuno di noi è in grado di risolvere i gravissimi e pesanti problemi di questa, a me verrebbe la febbre per una settimana dopo l'elezione della sindaco, però dialogo e confronto sì, promesse no, basta con promesse che abbiamo sentito reiterare da chi è già amministrato, con poi produzioni di effetto assolutamente zero. Finiamo qua, le auguriamo naturalmente come a tutti i candidati il meglio, insomma in bocca al lupo, grazie a Luca Romagnoli, noi facciamo un piccolo break perché tra pochi secondi abbiamo un altro candidato a sindaco di Roma, a tra poco.